Trapani 9, Troina 0, recupero del campionato nazionale di Serie D, andiamo a vedere le scelte di Ivan Moschella, tornato oggi in panchina. Recchia, Tezza, Pagliaruro, Martese, Buffa, Musso, Bonfiglio, Vitale, Lupo, Sant'Alpia, Garfano. All'ottavo, gran tiro di Buffa da fuori aria, il portiere ospite Rivugi in corner. All'ottavo, Trapani in vantaggio con Bonfiglio su calcio di ricore, poi ancora al tredicesimo, ancora Bonfiglio, 2-0 Trapani, poi al venticesimo, il 3-0 che chiude la partita, Antonio Musso. Ancora al trentunesimo, la quarta rete del Trapani, a firma di Sant'Alpia, poi ancora al trentacinquesimo, tripletta per Bonfiglio, il 5-0. Finisce dunque il primo tempo al provinciale, Trapani 5, Troina 0. Passiamo alla cronaca del secondo tempo, al quarantottesimo minuto ancora il Trapani, 6-0 ancora con Musso, al minuto 48. Nelle troina al quarantanovesimo, alcuni campi, poi ancora Bonfiglio al cinquantaduesimo, poker di Bonfiglio, il 7-0. Poi al cinquantacinquesimo, arriva all'8-0 di Russo, appena entrato a posto di Bonfiglio, al sessantunesimo, ancora a campio nelle file dell'Eletroina. Al sessantacinquesimo minuto, entra De Felice a posto di Musso, nel Trapani, al settantacinquesimo minuto, martese per Paolo Barbara. All'ottantesimo minuto, l'Eletroina, cambia ancora, all'ottantanovesimo, arriva la rete di De Felice, che fa 9-0. Non ci sono niente recupero, al provinciale finisce 9-0, le rete, le poker di Bonfiglio, poi doppietta di Musso, un gol a testa per Russo e Sant'Apia e De Felice. Dunque, 9-0, tre punti importanti, Trapani, che si prepara alla sfida di domenica contro il Portice, in traspetto, altro scontro diretto, importante per mantenere la categoria.